E' l'ora della verità e della responsabilità. Per il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, l'avanzare nella crisi economica impone ricette nuove e soluzioni complete. Non bastano gli sport, come la proposta di Franceschini. Io credo che serva una politica che non dice al governo, solo perché stai all'opposizione, devi fare questo e non indica come, perché questa non è una politica che oggi serva più al Paese. E allora noi diciamo al governo, trova i soldi per famiglie, piccole imprese, ammortizzatori sociali e gli indichiamo una strada. Dobbiamo avere il coraggio di un patto tra le generazioni. La riforma delle pensioni è l'unica via d'uscita, insiste Casini, ma avverte non è solo il PILD a fare spot. Le ronde non servono a nulla, rischieranno di far male a se stesse e agli altri, serve dare più soldi a polizie e carabinieri, reintegrare i 10.000 che sono sotto organico. Il leader Udc marca il solco di un'opposizione responsabile, da qui la disponibilità a cambiare voto sul federalismo, se serio e non solo propaganda, della Lega. La prospettiva, il partito della nazione, ribadisce da Trieste Casini, se il PDL è solo Berlusconi e il PD con Franceschini vira a sinistra, l'Udc annuncia farà coalizioni centriste con candidati seri.